Qualche problema di coordinazione? Ciao a tutti, sono Maria, ho 29 anni e vivo a Monaco, ma sono originariamente italiana. Vivo in Germania da quasi 6 anni e negli ultimi due anni lavoro per Freeletics, dove sono Product Marketing Manager. Sono molto contenta di filmare questo video in collaborazione con Freeletics, la mia 30 Day Challenge, perché vorrei davvero ritornare ad avere la mia routine e cercare di rientrare in un programma di allenamento giornaliero, perché nell'ultimo periodo purtroppo, dovuto a cambiamenti sia personali che da un punto di vista lavorativo, non mi sono più allenata tutti i giorni e ne risento molto, sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, perché mi accorgo che sono molto meno concentrata e motivata durante la giornata se non inizio con un buon allenamento la mattina. Il mio goal per questa challenge è quindi cercare di essere motivata di nuovo e avere un piccolo allenamento tutti i giorni che mi aiuti a ritrovare la routine. Per questo sto collaborando con il nostro coach team a Freeletics, che mi ha creato un piano personale per 30 giorni di addominali. Tutti gli esercizi si possono trovare nell'app e poi durante i 30 giorni aumenterò sia il livello di difficoltà che il numero di ripetizioni, per cercare di aumentare il numero di crunches che riuscirò a fare alla fine. Speriamo di riuscire almeno a raddoppiarlo. Il secondo giorno è stato particolarmente difficile con tutti gli hold. Pensavo di avere più difficoltà a mantenere il plank. Invece è stato Superman hold, che è stato molto più difficile da mantenere. Spero di migliorare in queste quattro settimane e riuscire a mantenerlo per un minuto senza pause. Oggi il coach prevede stand-up e reverse fly. Stand-up è uno degli esercizi più difficili per me, quindi inizierò con stand-up assistiti e vedo come va. E l'altro esercizio, il secondo esercizio sono reverse fly. Sono molto contenta di averli nel piano perché è un esercizio nuovo che non ho mai fatto, quindi vediamo come va. Finito tutto per oggi, faticoso, ma è andata molto bene. Qualche problema di coordinazione, ma è finito per oggi. Volevo provare con i pesi, ma non riesco al momento. Vediamo. Speriamo che alla fine dei 30 giorni riesco a fare almeno one back extension con i pesi. Abbiamo montato la barra stamattina. Speriamo mi regga. Oggi fa abbastanza freddo, ma mi sto allenando comunque. Fine della seconda settimana e sono molto contenta perché non ho saltato neanche un giorno, quindi sto procedendo bene. Ho finito il workout per oggi, fine della terza settimana. Domani iniziamo la quarta. Sta andando tutto molto bene, sono contenta. Check in per la quarta settimana. Sta andando tutto bene, mi mancano solo tre giorni e non vedo l'ora di vedere quanti addominali riesco a fare alla fine. Ultimo giorno, finito tutto, gli addominali raddoppiati. Sono molto contenta e sono arrivata a 74 addominali di fila. Grazie a tutti.